C'è certo che non è che oggi facciamo... non so niente, che non so ancora cosa mi ha preparato. What's in the box? Ciao ciao! Oh no! No, non è proprio what's in the box, è un mix. Facciamo doppia protazione, perché io non fido per niente. Vediamo se in Devin è cos'è. Ho paura io, ma è cattivo o buono? Molto cattivo. Ah, è una cosa che mi piace. È una cosa che ti piace però, che va a lei. Dai, metti, metti. Ehi, Devin è cos'è. Vediamo, questa volta spero di cercare io, secondo me non è Devin è. Le figurine dei meccan per te? Sì! Sei contenta? Sì! Allora, apriamo tutto il pack. Speriamo di trovare quella d'oro. Ah, ciao ciao, Duc, è lì che oggi lo facciamo vedere le carte dei meccan contro te. Se ci capita quella d'oro... Apriamo prima queste pacchette. vilichiamo le delle cose sembrati così West? Speriamo le carte dei meccan contro forti. Nah, nonostro knittingrato. Speriamo in verona, nevano, nonostro, Allora avete trovata la gold? Non ancora, stiamo cercando ancora, speriamo di trovare 106. Allora Nikita quando fai l'album anche tu, Nikita il tuo album? Un po' presto, molto presto, quando arriviamo a un milione di iscritti, anche di più. Allora non abbiamo trovato, non ancora, speriamo che ci trovi, ci capitano, una, 163, allora, non è la gold, no, non è la gold, no, neanche la gold. Ragazzi dobbiamo caprare ancora queste figurine, vuoi veramente incontrare me contro te? Cosa fai con loro? Gioco, chiacchiero, tagliamo la pagina? Va bene ragazzi, mettiamo l'ultimo figurine, se vi è piaciuto questo video, scrivete se la lette che, che facciamo ancora, capriamo ancora questi figurini e cerchiamo questa gold, vero? Sì capito, questi sono i nostri doppi, con chi le scambiamo? Se ci dà la gold e li dà tutto il nostro, anche il calendario, guarda che non l'abbiamo ancora attaccato. Aspetta, a... Dynamics Ciao ciao dal canale Nikita Aspetta il like e iscrivetevi al canale Nikita Ciao ciao Ciao!